Allora Boban, il quarto tie-break quest'anno su quattro trasferte a Verona, stavolta è andata male, la serie non è finita, lo sapevamo che era difficile, cos'è mancato stasera? Non abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un po' dall'inizio troppi errori, specialmente in attacco, non lo so se abbiamo perso un po' il ritmo di gioco, anche giocando male siamo riusciti ad arrivare a tie-break, penso che, lo sapete, non lo so, in generale oggi non eravamo al solito. E' una cosa positiva, anche giocando male giochiamo alla pari con loro, questa è l'unica cosa positiva. Tanto avremo poco tempo per pensare ovviamente, o meglio, il tempo ci sarà, ma domenica che è il giorno di Pasqua, ce la passeremo al palazzetto, ovviamente stravolentieri, c'è gara quattro e abbiamo un'altra occasione per vincere, per passare il turno in questa serie, è fondamentale, avremo il palevangelisti al nostro fianco, dovremo sicuramente giocare meglio. Sicuramente dobbiamo fare molto di più, oggi non siamo stati così decisivi in battute come allo solito e quella cosa deve cambiare, perché il nostro gioco deve essere metto la pressione, diciamo, specialmente in quel fondamentale e dopo giocare muro difesa. Dico, oggi loro sono stati bravi, ma anche forse noi un po' in questo momento troppo mosci per vincere questa partita. L'ultima cosa, guardiamo, secondo i numeri, la differenza, diciamo così, più evidente, soprattutto a muro. Sì, 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 ma quando loro ricevono meglio di noi è normale, in senso, quando noi ricevamo bene abbiamo anche 80% di attacco, purtroppo giocando sempre pala un po' staccata era difficile. Era difficile, secondo me mancava anche un po' di Russell e cerchiamo di recuperarlo in modo migliore. Non so se potevo cambiarlo prima, in senso, ma volevo veramente che c'è il ritmo della partita, perché non abbiamo avuto questa cosa, abbiamo dieci giorni. Senti, l'ultima cosa, diamo appuntamento a tutti i nostri tifosi per Pasqua, passiamo la Pasqua tutti insieme. Sì, buona Pasqua a tutti, spero una Pasqua felice. Ci vediamo al palazzetto. Al palazzetto, sicuramente. Grazie, Boban.